Un po', un po' sospettoso, è totalmente sospettoso. Ripeto, ogni consiglio che io vorrei dargli viene inteso come trappola. Allora, basta dire questo. Io non faccio trappole a nessuno, ripeto, non ho nessuna intenzione di prendere il posto di nessun altro. Credo di avere l'intelligenza, l'intuito, l'astuzia, cose per dare dei consigli. Già il fatto che non vengono accettati vuol dire che c'è qualcosa che non va. Grazie.